Stare in pronto soccorso non è un'esperienza piacevole nemmeno in veste di accompagnatori di un paziente. Le attese possono anche durare ore. A Vigevano fino a non molto tempo fa nella sala d'aspetto c'era un punto ristoro. Niente di che, qualche distributore automatico dove era possibile acquistare bottigliette d'acqua, bibite, caffè e degli snack. Da qualche tempo sono spariti. È l'onda lunga dei disservizi degli appalti per i punti ristoro. Appena risolta la questione del bar, che ha riaperto dopo quasi un anno di serrata a causa varie questioni burocratiche, è arrivato il problema macchinette. Per qualche settimana le due grane sono arrivate addirittura a coesistere. In tutto l'ospedale non era possibile comprarsi una bottiglia d'acqua o un bicchiere di caffè. Il bar tardava a riaprire e i distributori automatici erano spariti. In entrambi i casi c'erano problemi con gli appalti. Ora il bar ha riaperto ma le macchinette ancora non ci sono. L'appalto con la vecchia ditta è scaduto, quello nuovo non è ancora operativo. Lavoratori e utenti dell'ospedale così devono rassegnarsi. Negli orari di apertura del bar si può rimediare, ma quando l'esercizio è chiuso niente acqua, caffè o merendine. Se il disagio è evidente per gli operatori sanitari, ancora di più lo avverte chi si ritrova in pronto soccorso. Impossibile ottenere qualche genere di conforto in una zona dove tra l'altro non ci sono pubblici esercizi nelle vicinanze. Certo i problemi della sanità sono ben altri, ma vedere come la burocrazia riesca anche a far sparire la macchinetta del caffè da un pronto soccorso non è un segnale confortante.